Il suo sindaco aveva trovato una soluzione, perché non avete avviato una soluzione? Ma quale soluzione? Un dormitorio. Sì, ho capito, ma non è una soluzione. Arrivano altri cento, beh, apriamo altri cento. Soluzione secondo i suoi temi. Apriamo la fiera, mettiamo lì. Non ho capito, allora dobbiamo trovare posti. Ma mi scusi, mi scusi, capogruppo, ma lei fino a qualche secondo fa ha detto che Dublino non serve a nulla, l'Europa non serve a niente, bisogna solo mettere polizia, confini, trovare sistemazioni, soluzioni. La soluzione di Piazza l'ha trovata perché si è tornati indietro. Cioè la gente non vuole vedere i migranti in Piazza Libertà. Bene, allora... No, 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 non dobbiamo averli a Trieste. Attenzione, a Trieste non dobbiamo tenerli. Queste 1.400 persone non devono rimanere qui, eh. Che sia chiaro. Lei è il capogruppo del primo partito in Consiglio Comunale. Lei cosa sta facendo per risolvere i problemi di Piazza Libertà? Siete incarica da più di un anno. Lei cosa sta facendo? Noi stiamo chiedendo che queste persone, che anche la Prefettura, il Sindaco sta già facendo, cioè non è il problema nostro che... Ah, non è il problema suo. Quello è nascondere sotto la polvere, quella di metterli, di dargli altri posti letto. Quello è nascondere la polvere sotto il tappeto, trovando dei posti letto perché lei non li vuole vedere in Piazza, mettiamoli in un posto. Arrivano altri 100. Troveremo posti letto per tutti, come ha detto il signore Ai Duchi, daremo ai Savoia. Ma quindi lei è contro di piazza. Non lo so. Tanto il turismo a Trieste non ci interessa. Ma mi scusi, ma mi scusi. Il turismo a Trieste non ci interessa, quindi dobbiamo tutti i posti letto senza problemi. Lei quindi è contro di piazza. Perché di piazza sta proponendo una soluzione necessariamente tampone, ovvero quella di sistemare queste persone disgraziate da qualche altra parte. Quindi lei è contro. Ok, possiamo farne 90? Bene. Dopo ne arrivano 100. Sono 100 che rimangono in Piazza Libertà. Troviamo altri 100 posti? Cioè, il percorso è quello? Non credo proprio.